Musica Salve a tutti amici, sono Mr. Delric Siamo qua su un altro gameplay, un gioco diverso ragazzi Dying Light, un gioco che ci sta piacendo da morire Siamo qua con il nostro amico Cocco Ciao, sono sempre qui E questo giro ci stiamo prendendo gusto a fare dei giochi insieme E abbiamo deciso un gioco un po' diverso da dove ci avete già visto praticamente Civilization Civilization, esattamente Allora, Dying Light ragazzi, un gioco molto simile diciamo così a Dead Island Con zombie, non possiamo dire di sopravvivenza Perché non è che ci dobbiamo procurare roba da mangiare o quant'altro Dobbiamo svolgere delle missioni C'è una storia principale e altre secondarie Possiamo craftare e avere una quantità di armi, armamenti vari Interessantissima Possiamo modificare le armi a nostro piacimento Praticamente trovando in giro i progetti E vi facciamo vedere un pochino cos'è il gioco Stiamo facendo una missione secondaria perché non volendo spoilerarvi nulla Abbiamo deciso, giusto Cocco, di non trattare Giusto, giusto Non trattare la missione principale Allora, iniziamo a incamminarci Per sbloccare innanzitutto dei rifugi dove potremo passare la notte Visto che ormai è quasi notte Comunque io volevo dire che il parkour è troppo bello Ecco, questo gioco ha una delle caratteristiche del parkour Che lo rende particolarmente figo Ok, te stai già andando avanti Sì, sì, ho fatto tutto il percorso Io fino a qui ci si arriva con il percorso di parkour Tu vedo che sei caduto da qualche parte No, solo qui che uccido sto tipo Guardate ragazzi Vai, muori, sprozzo, muori Ti stai divertendo senza di me ti stai divertendo Guardate, gli zombie sono fatti benissimo Ci sono un sacco di infected speciali In questo gioco Durante la notte ce ne sono alcuni Poi durante il giorno se ne possono incontrare degli altri In particolare, allora Qua c'è un avamposto cocco che dobbiamo liberare Sono caduto, stavo per morire Mi sono fatto prendere la mano dal parkour Allora Qui c'è un avamposto che dobbiamo liberare Vedete quanti materiali si trovano in giro Ok, non so cosa sto facendo Ok, dai Tu dove sei? Allora Va sopra, ok, ok Ti vedo Maledetto Ti colpisco la testa da qua Visto che tu non mi puoi raggiungere Vengo lì da te o... Allora Davanti a noi, lo vedi il rifugio? Dall'altra parte della strada Sì, 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 sì Ok, andiamoci e chiudiamo il cancello subito Che poi ci sono dei non morti da battere lì dentro Io mi butto giù perchè sono assistito Porto il cane e il Giacomo morto Tu pensa a chiudere il cancello Ok Giordi di merda, muori Muori Prego anche il calcio Chiuso Dietro attenzione Attenzione Ah, non l'ho visto Un po' di calcio in faccia E di martellate in testa Che figlio Calcio in fula Ah, comunque, ragazzi, non c'è se magari Mi sentite bene o mi sentite male Perchè non ho impostato il volume Quindi magari se non mi sentite Sentite soltanto il gioco Eh, giustamente Proviamo ad abbassare un pochino Effettivamente i volumi del gioco Allora, il gioco Eccolo qua I volumi di dialoghi Ecco, un pochino li avevo abbassati I volumi degli effetti I volumi della musica Li teniamo un attimo più bassi Esatto, soprattutto in combattimento Oddio, altri due Due petonti Eh, allora Io mi becco l'altro, vai Ok Oh, qua c'ho Caricato il colpo potente Che io ho già sbloccato Io no Allora Adesso vi mostrerò anche Quest'altra cosa Ok Qua si perlustra tutto Con F si cerca Allora Nel nostro menu Oltre ad avere l'inventare I progetti Le missioni Abbiamo anche le abilità Abbiamo tre alberi di abilità Ragazzi Dove c'è il grado di sopravvivenza Il livello di agilità E il livello di forza Questi livelli aumentano In base a quello che facciamo Il livello di sopravvivenza Quando craftiamo le cose Quando facciamo le missioni Secondarie o non O quando svolgiamo anche delle gare Che si sbloccheranno poi in seguito Il livello di agilità Facendo parkour Scalando Facendo i salti dall'alto Eccetera Prendiamo punti esperienza E il livello di forza Quando combattiamo Quando passiamo di livello Abbiamo poi un albero di abilità Che si possono prendere Quindi tipo Il calcio di rimbalzo Che dopo vi farò vedere La scavalcata dei non morti La scivolata per terra Nell'abilità di agilità Oppure Lo stordimento Che è la prima che si può fare qua Più punti vita Con la robustezza Eccetera Cioè ce ne sono Tanti di diverso tipo Io ho preso La martellata più potente Che è questo qua L'attacco di forza Che si prende a livello 6 Almeno Almeno di livello 6 Tenendo premuto il tasto Per l'attacco Si carica il colpo Poi un po' più lento Però fa un po' più male Allora Noi adesso abbiamo sbloccato In teoria questo Guarda qua che l'erciume Ma abbiamo ripulito tutto Perché qua mi dice Che non è ancora pronto E anche a me dice Che c'è da ripulire Però Non penso che c'è da pulire Ma vuol dire Che c'è un altro non morto Qui da qualche parte Dei vicini No Perché c'è da Ah Guarda vedi C'è da accendere le luci Ah ecco Non le avevo viste È vero Hai ragione Ok Rifugio sbloccato Abbete visto Abbiamo preso anche dei punti Abbiamo preso Punto abilità guadagnato Grado di sopravvivenza Allora Ci dicono che non possiamo dormire adesso Ma perché Non è abbastanza tardi Va bene Non c'è problema Andiamo avanti Aspetta che mi metto il punto abilità Ah ok Ecco vedete Adesso sto mettendo il punto Di sopravvivenza Io avevo giocato questi due Come Vedete Nel mio Gameplay E posso scegliere Se mettere lo shuriken Elementale O No O il baratto O vabbè La questione dell'erbe Che Non mi ispira tanto Beh lo shuriken elementale Non è male Perché in pratica In fondi Agli shuriken Che si possono costruire Ehm Fammi vedere Eccoli qua Vedete ci sono gli shuriken Ustionanti Quelli esplosivi E quelli congelanti Penso che farà quello Perché Voglio lanciare tanti shuriken Ok Ehm Ci siamo Non possiamo andare a dormire quindi Giusto? No Andiamo oltre Andiamo a sbloccare Il prossimo rifugio Aspetta un attimo Che ti follow Poi vedete Poi vedete Durante la strada Nell'ambiente E' pieno di Acqua a terra In questo caso c'è Della benzina Che può Prendere fuoco E quindi bruciare Ehm Zombie Qua ci sono anche Delle bombole Che possono esplodere Che possono esplodere Quindi attenzione Non colpitele E tantissime case Da poter esplorare Perché ci si trova Un sacco di oggetti Gli oggetti Non mancano mai Con i quali si possono Riparare le armi O costruire Potenziamenti O quant'altro Oppure snack Dove recuperate La vostra vita Come avete visto Ho uno spray Questo è utilissimo Uh Cos'hai trovato Qui di bello spago Mi serve Non trovo mai spago Basta Possiamo andarcene Bellamente Oh Lo spray è importante Lo spray è importante Dolci Io trovo solo cibo ragazzi Pensano che siano Che pensano Che sia un cicciovano Serve per curarsi Ovviamente Questa cosa Allora ok Buona miseria Che cazzo è successo Cos'è successo È scoppiato il barileo Porca vacca Questo è uno degli infected speciali Quelli che corrono Dannazione Muori Ti aiuto È esploso Qualcosa Attenzione alle spalle Ah si stava beccando Oddio un altro di questi Che corre Ce ne sono due Attenzione Morta Ok Vediamo di andarcene Credo che sia esploso Un boomer Penso Perché Penso Ci sono degli infected speciali Mi si è rotta anche l'arma Aspetta che la ripariamo Con il tasto R Eh si Come vedete Poi comunque Per riparare l'arma Sotto avete il numero Di quante volte si può Diciamo Rimettere a posto Dopodiché Tecnicamente È tutto rotta Esatto Allora sulla destra Infatti Il riquadretto Lì in basso C'è il numero in alto Che è le volte Che si può riparare Sotto Quanti sono pezzi di metallo Per poterlo riparare In pratica Che si utilizzano Se ne usa uno per volta Allora Andiamo da questa parte Qua c'è uno zombie Infuocato Questo è il calcio volante Che ho sbloccato Con le abilità Muori 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 Ok siamo vicini A un rifugio Ci siamo Anche qua bisogna Liberarlo Sono caduto Anche io sono caduto Cazzo Un altro di quelli che corre Maledetto Ok Sei arrivato tu E me l'hai ucciso Bravo Questo qui è normale Oh cioè Hai visto Ho spinto Vedete Queste lame Servono proprio per Fare queste figate Uccidate E con E Chiudiamo la porta Sennò entrano altri schifosi Oh 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 Grazie Muori Oh là In due In due è più divertente E non ci si ruba neanche le cose Perché sono suddivisi Per quanti siamo Allora Attiviamo l'elettricità Anche qua Che non mi ricordo Eccolo qui E' lì E' lì Qua bisogna FFF Aprire di potenza Uscito ad accendere le luci Abbiamo sbloccato il rifugio Perfetto E' perfetto Abbiamo preso anche questo Vediamo se si può passare la notte adesso O non è ancora pronto Il rifugio Qua non è ancora pronto Sai Ah ecco esatto Perché c'è uno zombie Ancora qua dentro Dove Dove pensi di andare Guarda Fai proprio le mosse del 3 Oi Sono passato di livello anch'io magari Sì Grado di sopravvivenza Punto di abilità guadagnato Perfetto Allora vediamo che cosa Posso prendere come abilità Sono di ottavo livello Qui Allora Granate fai da te Eee Impara a creare Quattro tipi di granate fai da te Normali Dissanguanti congelanti o tossiche Carino Recinzione elettrificate Impara a usare le trappole di recinzione elettrificate Non male Giustatutto Sono più apile con le riparazioni Riparare un'arma Spesso non costerà uno slot Riparazioni dell'arma Anche questo è ottimo Oh no Ottimissimo Esperto di scudo Impara a creare uno scudo E a usarlo in combattimento E anche questo è male Mamma mia Ma sono una più bella dell'altra Ragazzi Cosa cavolo prendo? Dai distinta La giustatutto è ottimo Ma anche le granate Caspita Va io sono per le granate Anche Allora no Facciamo la giustatutto Ve lo dico Perché le granate Purtroppo possono attirare Proprio quegli infected speciali Che abbiamo visto prima E granite Per cui lo prenderemo un po' più avanti Intanto Questo è per le riparazioni degli oggetti Perfetto Allora Vediamo se si può dormire adesso No Non si può dormire Niente Ce ne sbattiamo la ciolla Andiamo avanti Allora Arriviamo dall'alto Sì Compratelo ragazzi Questo gioco qua Perché Credo sia stupendo Magari le prestazioni grafiche Possono essere un po' altine Anche a me ogni tanto va A scattini Di tanto in tanto Però vi assicuro È uno spettacolo Perché Cocco abbiamo fatto questa strada Perché noi adesso Arriviamo dall'alto E quindi c'è un bel salto da fare Allora Prima di tutto Qui c'è un fiore Che converrebbe prendere Lì che ne è tossico Ah Si può prendere? Eh si Ah ma tu forse Non lo puoi ancora prendere Probabilmente No io l'ho preso L'ho preso Ah ok Allora Qua c'è un salto da fare Che ci ucciderebbe normalmente Però sotto qua C'è l'immondizia Per cui Geronimo Non ci facciamo nulla Interessante Bel salto Adesso Andiamo Da questa parte Dunque qui ci sono delle case Ecco Dobbiamo cercare questo Questo gas Che deve essere un deficiente Che ha delle medicine False No no Non false Devevano avere delle medicine Che ci servono Allora Qua non c'è un accidente Andiamo da sta parte Qua c'è un'altra casa Vadi vadi Spondi la porta Gas Eccolo Anch'io Abbiamo lo stesso nome Ciao Sei della videoteca Io mi chiamo Crane 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 è un monosillabo Come re Come te Come se Come me Come si E altri tipi di Che verbi come Mi è partito via l'audio Non mi dice più nulla Si muove un po' da rapper Posso entrare? No 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 Non se ne parla No 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 Oggi è il mio giorno speciale Con la mamma È la festa della mamma Ed è il giorno più importante In tutto il mondo Sei della videoteca? Perché continui a chiederlo? Deve portarmi il film Sulla mia storia Si intitola I due mondi di Charlie Parla di me E della mia intelligenza Gas Se ti porti il film Mi farai entrare? Certo Lo guarderemo insieme È la festa della mamma E se mamma non è felice Nessuno è felice Oh E vuole anche dei cioccolatini La mamma vuole dei cioccolatini Aspetta un momento Non è un po' troppo Non discutere Con Gazzi Non funziona È quello che dicono Sempre in farmacia Va bene Ok Quindi dobbiamo procurare A sto deficiente Dei cioccolatini E un film Allora Guardiamo nella mappa Dove bisogna andare Ok Praticamente È come se bisogna Se tornare indietro Mi sa che Dovremmo affrontare Allora Andiamo prima Da questa parte Dunque Seguim pure Vediamo un attimo Da questa strada Oh scusami Ho avuto attimi di là Oddio Ho mancato la scala in pieno Ok Oddio Qua ci sono un po' di Bestiacce Per cui attenzione Salta subito Qua sul pullman Cerchiamo di Evitare questo combattimento Ok Allora Andiamo lungo la strada Vieni Qui non so cosa sia Proviamo a vedere Se riusciamo a Sì Dovremmo riuscire a farlo Ad aggirare questo pezzo Allora Andiamo di qua Sopra la macchina Ci arrampichiamo su Questa pietra Oh Sei caduto male Sì sì Guarda C'è anche uno zombie Che ha qualcosa Lì in mano Ha un tubo in mano Ok Pazzesco Allora siamo qua Siamo arrivati Eccoci qua Allora vediamo Questa porta è chiusa Bisogna cercare di entrare In questo posto Che deve essere La videoteca Credo Eccola Devo scassinare Coprimi Eh sì È un poliziotto Zombie Pietro è molta paura Ti fa la multa Ok ce l'abbiamo fatta Sta arrivando Oce Vieni vieni Cazzo d'allarme Caputana proprio adesso Esatto Cacchio Guarda la porta Ecco spento Charlie Charlie C come Charlie Allora bisogna cercare la lettere come la C di Charlie C di Charlie C di Charlie C di Charlie Allora qua ce l'ha Eccolo qua Trovato Preso Ok Adesso per uscire di qua Proviamo uscire dal retro Prova Anche se hai visto che Accendiamo un attimo la luce La torcia Con T Con la T Ok qua dietro non c'è nessuno No cazzo Si invece che c'è qualcuno Ci sono sopra di noi gli zombie Quelli speciali Quelli che corrono Cazzo di allarme Allora Ehm Una cosa Occhio Occhio Eccolo là Vai fallo sta Dietro di te Sei riuscito a farlo cadere Semplicemente a radiarlo Bravo Ehi Quanto Quanto vuole abilità Quanta violenza gratuita Ok Violenza contro gli zombie Dopo un po' ti fanno anche un po' di pen Esbitenerezza Esatto Allora Adesso dobbiamo andare a prendere invece I cioccolativi Forest Gump Della mamma Allora Però se ne sono l'indorno Non li prendi Ehm Dunca vediamo un po' perché non ricordo Dove cavolo si entra qua Ah Soprattutto qui guardate sempre cosa c'è dette Perché Di solito Iprovviste domestiche Porco cane Ci sono un bordello di zombie Ehm Un pochino sai Ma dov'è l'altra Altra Allora potremo sfruttare l'entorno all'ottobre Allora è qua dentro che bisogna andare Ma non so dove Ah Allora Proviamo 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 Ma se vado sopra Io sto andando sopra Io darei un po' di fuoco a queste zone Scusate Ce ne sono un po' tante Anche questo E' dentro questo bar L'altro Sì Dove sei qui? Sto arrampicandomi sopra la casa Io sono già sopra la casa Ma non Dall'altro lato non c'è nulla A parte vabbè la cassa che non è aperta Guardate che assassino Cavolo rotto Tanto per chi mi conosce La mia Conosce la mia abilità nello scassinare in In Skyrim Sa perfettamente quanto io adori questa Questa cosa Ho provato Del martello Allora Spero non me lo prendi Senti L'unica è andare giù e cercare di fare L'unica è proprio andare giù e provare Tentare Allora prendiamo questo tubo semplice Allora questo è un tubo semplice che è modificato con l'elettricità Di modo tale che i danni che faccio sono anche danni elettrici Posso lanciare un'altra Molotov se vuoi Allora lanciala sulla piazzetta che sta qua sulla tua destra Davanti a te c'è una piazzetta con un bel po' di zombie Non la vedo Guarda la mia freccia nella minimappa Guarda dove sono direzionato Sì Ok Guarda lì davanti Dall'altro lato qui Sì esatto E' pieno di zombie e quindi magari Bella lì Livello forza appunto Un po' lì se ne bruciano molto bene Qui ce ne sono qua Andiamo a eliminarli Invele città Molto brutto stronzo senza altro Ecco Qui ti raccolgo le cose Ok Vedete si possono raccogliere dagli zombie un sacco di Un sacco di chicche Io sto trovando solo sigarette Ok ma da dove si entra? Eccolo qua dalla Esattamente da lì Perfetto Adesso ripartiranno alla Oddio faccio un altro stronzo Ok Che violezza Hai rotto l'osso sacco Un po' di soldi Allora i cioccolatini dovrebbero essere Eccoli qua Qua sullo scaffale Insieme a un bel po' di caffè Prendilo tutto perché Merce di lusso che vale Un bel po' di soldi Casino sì lo so Aspetta che c'è da aprire il frigo Caffè Hamburger No io qua non ho niente Che brutto Caffè Caffè sul tavolo Dai Caffè Oh è vero Caffè Caffè qua dentro Ma quanto cazzo di caffè c'è? Uh che bello Quanti soldi si fanno Io questa roba qua non me la ricordavo assolutamente Uh ah 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 Molto bene Aspetta controlliamo se si possono aprire questi No Ok Ok usciamo di qua Dobbiamo tornare da signorino Sì da quel pulsone malefico Allora andiamo giù di qua Senza Ok Allora vedete che ci sono Trappola luminosa Ho visto penso Suppongo Shuriken Proviamo a lanciare uno shuriken contro questo stronzo Questo coglionazzo ha una bombola Che si è colpita Di attenzione scappa 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 Esplode e attira altri zombie di quelli cattivi Andiamo di qua Quanto alti sia Siamo parecchio alti E' un problema qua E' adesso scendere Porco cane Mi sa che abbiamo fatto un po' una cacata Eh Probabile Sto anche io adesso Cosa c'è qua? Ma aspetta che No Dei riformimenti Razzi Ho trovato dei razzi Figarette Sigarette Io ho trovato dei razzi E me ne faccio Allora di qua si può scendere Di qua si può scendere Ok lo stesso punto dove eravamo saliti noi prima Molto bene Dov'è che è scusa? Qua 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 Dove sono io? Ti hai dato un cazzotto Lo so L'ho sentito Fisicamente Ok Allora ragazzi ci siamo Eccoti il film I cioccolatini Aspetta che mamma li veda Gazi vince ancora Urrà per Gazi Ok allora adesso bisogna Entrare un attimo dal tetto E' un problema Perché questa casa Ha un tetto che è altissimo Ma Se noi guardiamo bene Là in alto Vedete Sotto al ponte Ci sono delle passerelle E dei tubi Che si possono sfruttare Probabilmente Per riuscire a saltare Sopra il tetto Allora cerchiamo Nell'immondizia Come fossimo dei procioni Ci arrampichiamo Sopra queste rocce Proviamo ad andare a vedere Da questo lato Del ponte Aiuto Mi sono incastrato Ok Allora qua c'è Un tubo E ci arrampichiamo Sul tubo E cerchiamo di andare Più sotto al ponte possibile Devo ancora dire Che non sono riuscito Con gli shuriken Merda stavo per cadere Mamma mia Mi sono salvato Puro culo Non sono mai riuscito Con gli shuriken A colpire le bombole Che stanno sulla schiena Degli zombie Quelli con La tuta Con la tuta Antiradiazione Diciamo Ce la fai? Siamo di sì Ok Allora io qua sono morto 40 milioni Di volte Dove stai andando? Ah ok Devi arrampicarti Di qua Ok Io qua sono morto 40 milioni di volte Perché continuavo A fare il salto Poi mi sono accorto Che qua sopra C'è il tubo E devo ringraziare Anzi Indie Gameplay Che è stato lui A darmi la dritta Dicendomi Ma guarda che lì sopra C'è un tubo Oh cazzo Io proprio non l'avevo notato Minimamente Facevo continuamente Il salto E puntualmente Precipitavo Come un coglionazzo Ok 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 Allora adesso che siamo Devo scendere? Sì Con la C Per abbassarti Beh anche se salto Ok Allora Ci siamo quasi Adesso Possiamo Arrivare Fino a Qua E da qua Saltiamo giù Oh Di cattiveria Prova a scassinare Vai Allora Come Vabbè Ecco Bisogna fare attenzione Anche con i rumori Per quello ragazzi Non ho preso le granate Prima Perché Eh Rotto Allora Bisogna prenderci la mano Ecco Lo scassinare Oh Fatta Bene Era anche normale Che proagine Caffè Io ho una quantità di caffè Che potrei stordire Dei babbuini Cazzoso Allora Ecco qua c'è la botola Qui c'è la botola Possiamo Contrare Allora Sto stronzo di gazzi Che non ci ha dato Gli rubiamo anche le cose Dalla cesta Esatto Precipitavo Prai Ottimo Ok Andiamo giù 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 Altro caffè Evviva ragazzi Io ho alco Ciao Gazi Shhh Il film è cominciato Mamma lo sta guardando Questa è la mamma di Gazi Hai visto? Guarda che bella che è Eh Best Ciao mamma Ciao mammi Mio dio Allora vabbè Taggeggiamo Mamma è felice Mamma è molto felice Gazi le ha regalate i cioccolatini E un film Allora vado a prendere le medicine Per aiutare il mio amico Beh Ok La mamma Non ha più convulsioni Da quando la sua testa Si è trasformata in una zucca Sono sul tavolo Grazie Gazi Gazi Rende tutti felici Vabbè Non ne sai Allora Eccolo qua Qua dove? Eccole qui Aspetta Prughiamo un po' Una nota Le ho preso Ah si Si Basta Basta Non c'è più nulla di inutile Credo E quindi Per uscire Dovremmo uscire sempre dal tetto Credo Mi pare Ah non C'è altre vie di uscita Ecco Allora vediamo per non ucciderci Non farci male Com'è cazza che si può scendere da qua Ah si qua c'è il cassonetto Ok Allora Andiamo a head home Si può tornare a casa Io però direi ragazzi che Per questa puntata magari è tutto Io spero che Gameplay di questo tipo vi facciano piacere Perché sono un po' di gameplay in scioltezza Vi facciamo vedere un pochino il gioco Poi anche semplicemente delle avventure così Un pochino a cazzo Spero che facciano piacere anche a te queste cocco Certo Mi piace il casino E quindi Un po' per divertirci noi Speriamo di far divertire un pochino anche voi Insomma ecco Fateci sapere cosa ne pensate Del gioco Ed il video in generale In descrizione Mettete mi raccomando un bel mi piace E noi ragazzi come sempre Ci vediamo al prossimo video Alla prossima Bella ciao Ciao ragazzi Ciao